good morning si adesso è luna 5 anche se io mi sono svegliato comunque più o meno due ore fa quindi però posso fare solo adesso il metro altrimenti l'avevi fatto nelle porte l'avevi fatto prima due ore fa ma lo faccio solo adesso quindi per me è come se fossero le 11 ad ogni modo dico quindi che mattinata inoltrata non pomeriggio però ovviamente è chiaro che il tempo ci dimostra che è luna comunque mister master maestro o semplicemente semplicemente David Lynch scusatemi sposto un po perché il sole è un po' ciecante ok it's March 8 2022 and it's Tuesday here in Naples middle morning there is anche se con un via di mezzo anche se con un vento un po' forte 47 and 8 Fahrenheit around 8 Celsius and this means that è anzi anche oltre che è quella giornata veramente 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 fredda come in questi giorni in questo periodo anzi direi anche sotto la media perché adesso è veramente un clima di genere anche perché si dice che è tornato che è venuto un vento alla Russia tra l'altro sappiamo anche la sua situazione nella guerra eccetera i danni che sta facendo la Russia ad ogni modo se mi vedete a mezze maniche come avete visto altre volte perché mai come in questi casi io però non soffro come soffrono tutto il freddo perché utilizzo quelle due pratiche di cui sempre parlo cioè nel senso di cui ho parlato in quel video in cui fece a dicembre e che invito sempre a vedere per questo motivo per capire appunto quali sono le due pratiche che utilizzo per cercare non di vincerlo il freddo perché è impossibile ma quantomeno di combatterlo infatti come vedete la maglietta a mezze matiche è una delle tecniche all'interno delle pratiche sì per quanto non c'è nel video sui pensieri come sempre lo faccio separato da questo me da iniziare nel caso interessa quindi occhio anyway I see and you all just see from the window sì come ho detto mamma che venta come ho detto il tempo sembra che ci sono dos beautiful blue skies in golden sunshine ma in realtà appunto è una via di mezzo ma avete visto non so se vi sto bene nuvole sole tra le nuvole ma molte nuvole e quindi it seems detto beh adesso ormai è già pomeriggio ma che comunque non we aren't going to be enjoying per queste altre ore dos beautiful blue skies in golden sunshine però comunque certamente non è totalmente nuvoloso c'è comunque questo bel sole quindi meglio di niente spero appunto che dopo non peggiora ma sono incerto vedremo caso ma vi aggiorno in descrizione chi se l'aspettava inizio marzo così come se fosse il gennaio ma purtroppo è così marzo è un po' pazzo o in italia qui si dice così ehm scuvi speriamo in un giorno ancora migliore domani per cui say the days so from the mythical window with the color of the curtain certo non brutta ma nemmeno sublime però ringraziamo sempre l'inquadratura che manca la finestra qui la illumina la tenda and it's a green roller shooter behind me on the top not visible infactor in the shot and finally from a mythical keyboard and it's a green roller 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 and it's a green roller